E buongiorno a tutti, oggi sono qui per parlarvi di un disco molto particolare, nel senso che questo disco è diventato negli anni una sorta di reference, una specie di cometa, tanto che molti tecnici, molti produttori, cominciarono a fare riferimento a questo disco per creare un sound molto simile per produzioni successive. È un sound che è stato così copiato che a un certo punto ormai, come spesso capita, si rischia di perdere la reale importanza della qualità dell'originale, perché esistono talmente tanti cloni, talmente tante copie di questo sound, che noi, se non conosciamo bene la storia, se non sappiamo contestualizzare nella corretta epoca determinati prodotti artistici, rischiamo un pochino di perderci per strada. Di che disco vi sto parlando? Di Beauty, di Richie Sakamoto. Sakamoto qui costruisce un viaggio sonoro in cui il Giappone, l'Oriente, incontrano l'Occidente in una serie di quadri sonori straordinari, quadri sonori. Ogni composizione è un quadro ben preciso e vi sono degli abbinamenti pazzeschi. Pensate che Sakamoto invita dei musicisti pazzeschi come, per esempio, Arthur Lindsay, con il quale realizza questa meravigliosa Rose, un pezzo che ha un testo straordinario, ma soprattutto una musica incredibile con la recitazione anche di Arthur Lindsay. E poi addirittura affianca due personaggi che sembrano estremamente distanti come Robert Wyatt e Brian Wilson dei Beach Boys e insieme danno vita anche qui a dei panorami sonori incredibili. Certo qualcuno dice che questo è un disco un po' leccato, un po' troppo raffinato. Ragazzi, sono tutte balle. Questo è un discone da paura. Poi voglio dire, ognuno di noi può decidere se è più importante guardare il quadro, la cornice, il vetro che lo ricopre o il rumore del cantiere sotto casa. Quindi io vi invito veramente ad esplorare Beauty e da qui entrare nel suo meraviglioso mondo sonore, un trampolino di lancio verso un mondo straordinario. È la scheda numero 855 del nuovo Mille Dischi per un Secolo. C'è anche un altro disco nel Mille Dischi per un Secolo di Sakamoto che ve lo lascio scoprire. Vi ringrazio tantissimo, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi sui social e arrivederci alla prossima.